Prova, prova. Allora mister, la certezza è che questo Darfo non molla mai, primo tempo molto equilibrato, spezzato da questo gol, su cui forse c'è anche qualche errore difensivo e poi una ripresa davvero stratosferica, un pareggio meritato. Anzi, alla fine, forse. Sì, hai fatto un'analisi giusta, nel senso che abbiamo preso un gol dove abbiamo commesso un errore due o tre giocatori, secondo me, di reparto perché non siamo scappati, è stato bravo a fargli il pallonetto al portiere e peccato perché la partita equilibrata non aveva tanta intensità perché era normale, oggi faceva anche un po' più caldo, poi invece sono un tempo...